Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Un appuntamento fuori abbonamento su due serate, domani e dopo, per iniziare e un altro, ugualmente fuori abbonamento, per chiudere il 17-18 marzo prossimi. Dentro questa parentesi, la Val Chiavenna potrà godere di una stagione di teatro e di musica di alta qualità. A dare là, nel vero senso del termine, domani sera sarà l'attesa kermesse del microfono d'oro, vietrina per cantanti dilettanti, sempre molto apprezzata dal pubblico. Grazie agli interventi e agli sforzi congiunti di pubblico e privato, si è riusciti a stendere un palinsesto davvero molto interessante e coinvolgente. È veroso ringraziare, come inti pubblici in particolare, da parte del Comune, la comunità montana che ha condiviso e supportato questo percorso e anche Pro Valtellina, che credo sia un sostegno particolarmente importante da questo punto di vista. Ad aprire la programmazione ufficiale sarà giovedì 27 ottobre, Le otto montagne, il super premiato bestseller di Paolo Cognetti, messo in scena dai milanesi Du per Du, spettacolo che ha debuttato la scorsa primavera al Teatro Parenti. Due gli appuntamenti in cartellone a novembre, il 10 in occasione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, Dove sono le lucciole? Una coproduzione Teatro Invito e Orto Teatro di Pordenone, con il patrocinio del Centro Studi Pasoliniano, che ci porterà al centro del mondo poetico di un autore discusso e imprescindibile. Direttamente dagli studi di Propaganda Live, noto per la felicissima invenzione del personaggio del Poiana, il 30 novembre al Teatro della Società Operaia di Chiavenna, ci sarà Andrea Pennacchi per parlare di suo padre, internato in un campo di concentramento, in uno spettacolo delicato, divertente e commovente al tempo stesso. La stagione teatrale riprenderà poi con l'anno nuovo, il 2 febbraio, in viaggio con i comici della compagnia Equivochi, che farà entrare nel mondo della commedia dell'arte, con tanto di maschere, lazzi e coinvolgimento del pubblico. Due saranno poi i concerti di importanti jazzisti, Umberto Petrin, che il 12 gennaio accompagnerà al pianoforte i film muti di Buster Keaton, e il 23 febbraio Stefano Battaglia, accompagnato da Giacomo Zanus e della Piurese Natale Arogantini, con una interessantissima ricerca sulle radici celtiche della cultura valchiavennese. La stagione si concluderà con un altro evento fuori abbonamento, l'ultima fatica della locale compagnia Un Filo Drammatici, Carmelo, ispirata a una nota opera lirica, che vedrà in scena giovani amici e attori del territorio.